Non c'è dubbio. Noi sappiamo che all'interno del nostro Paese non siamo riusciti, all'indomani della crisi tra 2008 e 2009, non siamo riusciti nel corso degli anni a recuperare tutto l'incremento di disuguaglianze e di povertà che c'è stato. Noi abbiamo avuto una povertà che è raddoppiata nel 2012, nell'ultimo anno dai dati provvissori che abbiamo diffuso nel 2019 è un po' diminuita anche per il resto di città. Ma adesso col Covid che succederà? Quanto più forti saranno le disuguaglianze? Con il Covid il problema è che il Covid sta colpendo dei settori che erano in ripresa e quindi il problema è che il rischio che si aggiunga povertà a povertà e che si sovrappongano i due tipi di povertà, quella che ci portiamo dietro da prima e la nuova è molto elevato.